Ormai loro devono stare in acqua. Guarda, guarda, guarda. E l'altro dove è andato? E' lì, ancora lì fermo. Cuccio, lo taglia di là che fai prendere. Guarda qua, qualcuno lo deve trovare. Questo qui è un maschio che avrà cinque anni, questo maschio. Ed è un maschio bello. La femmina è molto grossa dentro gli anni che è stato. Quella lì piccola era giovane. Sta cercando dove ci sono le sedie a straio. L'altra li ferma. L'altra li ferma. Sarà uno di quelli che doveva venire. Prima che ti persti.